allora ciao ragazze bentornati e ben entrati in un secondo nuovo video di oggi allora questo è un video come vedrete appunto dal titolo perché mi sono trasferita in un'altra casa e perché ho detto sempre che mi ero traslocata allora cominciando che quando ero piccola era perché per il fatto che praticamente la casa non era più governabile cosa vuol dire con questo vuol dire qua faccio la faccia seria perché è un argomento un po' delicato però non voglio parlare lo stesso allora praticamente questa casa prima di stare come adesso come la vedete nel video era una specie di sì di casa un po' vecchiotta stile barra 60 70 anni 70 oltre più e questa casa oltre più significa che prima di essere come adesso era stile vabbè non importa comunque si era abbastanza vecchiotta c'era degli anni in cui ci sono nati i miei zii praticamente quindi molto molto vecchiotta diciamo è stata restituata nel non mi ricordo anche anno non me lo chiedete però abbastanza annetti questa casa ma adesso che è stata restituata è molto bella molto comoda non sto qua di troppi dettagli però mi piaciuta tanto mi piace tuttora la amo me la sto vivendo tutta fine in fondo nel senso che come vedete ho messo tutte le mie cose qui spero di non dover cambiare di nuovo altre case perché mi sta vicendo un botto ci tengo a precisare di mettere un bel like ci piace il video comunque commentare e si va anche iscrivervi attiva la campanella che è tutto ovviamente gratuito e se mi va anche perché no dopo questo video forse non so se carico prima questo o quell'altro comunque se va siete le benvenute o i benvenuti a seconda di che di chi si iscrive comunque nulla allora questa casa qui prima io vi abitavo che era sono venuta abitare nelle nelle non mi ricordo 98 99 ma fosse sbaglio nel 95 no aspettate nel 93 non mi ricordo più ragazze non ho memoria che è solo quello che mi va sa perché ma vabbè comunque la piccolina quando mi sono trasferita da napoli a pozzolino a questa casa e questa casa non vi dico da me perché per privacy non è meglio non dire nulla perché non si sa mai però prima ho abitato in questa casa in diverse case prima in un'altra casa che sta andando vicino al cimitero di palau e poi quando ero con i piccoli con contro con i miei cucini appena anche qua andiamo bene cominciamo quando ero con i miei genitori abitavo all'età di 3 4 parra 5 anni sì perché mi sono trasferita lì prima di odio c'è un moschino scusate ok mi sono trasferita che avevo barra forse sui 3 4 anni non vi ricordo neanche comunque un po confuso questo video comunque spero che ve lo visualizzate tutto perché ci teniamo a fare un video diverso dagli altri questo è appunto un come dire sì mi sta un po affigliando allora sono andata prima abitare un'altra casa che era una specie di condominio condominio era quando ero piccola io poi sono andata abitare proprio in casa i miei nonni dei miei nonni ovviamente sapete saprete già la storia perché ve la racconto in un altro video in drama live che non l'ho più fatto perché questo drama live non lo mandava più di farlo lo farò in un altro momento a prescindere comunque niente ragazzi era per dirvi che questa casa è stata ristorata molto tempo fa che non mi ricordo neanche quando prima che io diventassi signorina più o meno adolescente mi sono trasferita in un'altra casa che non sto qua neanche lì a dirvi dove e come ho fatto i fagottini mi sono trasferita in una casa andando quasi non dico vicino alle poste ma quasi dopo c'era la scialpetra praticamente adesso sono un'altra casa quindi la scialpetra sarebbe dove c'erano i militari militari americani e lì ho vissuto almeno all'età di 16 o 17 anni neanche mi ricordo più però ci sono ho vissuto benissimo anche se tra freddo e caldo non si scoppiava bene perché non posso dire i dettagli come è andata a finire la mia casa ma era molto bello quella casa di come ho vissuto la mia infanzia barra adolescenza no infanzia no più che altro si si tratta tra l'infanzia e l'adolescenza perché ho fatto ci ho fatto non solo le non so se ho fatto l'elementare non elementare l'impossibile perché l'avevo già finite quindi ci ho fatto cinque anni di medie buone buone e poi dalle cinque anni di medie ovviamente tornando a questa dove sono dove io adesso che sto facendo il video sono tornata a casa mia era già bella che ben piazzata nel senso bella ristrutturata si sta benissimo ci sono due stanze scusate che c'erano queste dite due stanze e un bagno e un cucinino una cucina che bella non tanto enorme ma discretamente bella e spaziosa poi c'è una stanza dove c'è ovviamente la sala come la vedete nei video videovlog e un bagno come l'avete visto nei video chiacchierici barra pulizie motivazionali comunque questa casa qui prima è stata ristrutturata che il muro non era ben messo perché ovviamente vuoi un po perché è stato fatto un po un casotto questa casa nel senso che aveva messo troppe cose pesanti e il muro ne è sceso ne è precipitato avendo una grana paura sono dovuta a fuggire da non dire fuggire più che altro si sono dovuta allontanare questa casa perché era da ristrutturare è troppo vecchia aveva già i suoi bei annetti e quindi sono dovuta andare via sono dovuto trasferire appunto in un'altra casa fare un sacco di fagottine cose mie prendere i miei effetti personali e quant'altro e andare in un'altra casa però lì sono stata benissimo ho vissuto lì tutti i miei anni barra adolescenza eccetera è nulla anche lì questa casa è stata bellissima perché anche lì mi ricordo quanta cose belle ho fatto ma comunque perché mi sei trasferita perché appunto vi sto dicendo che mi ero trasferita perché non era più abitabile ecco il punto perché mi sono trasferita in un'altra casa non era più abitabile non era più accessibile e poi perché eravamo in pericolo che la prima sera ho detto nonna posso dormire da te perché perché ho un brutto sospetto infatti un angelo e dico un angelo bello e buono mi ha salvato la vita vedrete in che senso nel senso che se io dormivo nella stanza dove dove mia madre tempo fa purtroppo non vi era più potevo perdere la vita anch'io in che senso se la sera prima non so come mai per un obbio sospetto ne è sceso il tetto in una stanza che io dormivo una volta ogni tanto di papa e quindi ho detto meglio che mi trasferisco con camera di mia nonna mi trasferisco in camera di mia nonna così è successo ho fatto e il giorno dopo ne era proprio sceso tutto nel soffitto della stanza in cui dormivo io sul letto meno male che non c'ero io perché se non lo dico con il sorriso sulle labbra ma c'è qualcosa di ridere perché se c'ero io povera melania non ci sarebbe stata più nessuna melania cosa vuol dire che poteva non esserci più quindi ho detto grazie al cielo io sono qua grazie al cielo qualcuno della somma ha voluto bene perché sono ancora qua e ringrazio il dio buono anche se a volte io non sono una cana che schinco di santo che sono buone laccia però meno male che io sono qua e quindi nulla per questo per tipi la verità che io ringrazio che qualche cosa qualche santo ma toccato non so santo angelo come lo voglio chiamare sono riuscita a capire che non potevo stare lì che ero in pericolo e che mi sono sì mi sapevo un po' ma vuole ma è perché ringrazio il dio che mi ha salvato da stare sotto le macerie di una stanza vecchia e pericolante ecco perché dico tante volte non devo dire cose o scelgo di me stessa perché non mi fa bene a me e neanche al mio animo però poi vi racconto altre cose mie personali che non voglio dire ma le dico perché così mi conoscete meglio comunque sì ragazzi finalmente si torna a casa nuova anzi sono tornata a casa nuova perché sta casa qui è stata ristrutturata io sono felicissima anche se a volte c'è gente non sa di essere felice che io sono felice perché vabbè lasciamo vedere altri dettagli che non c'entro niente sono contenta di stare qua in questa casa di essere tornata a casa nuova bella e confortevole sì c'è un moshime prima mi giro e torno vabbè e sì sono contenta e ringrazio il cielo che mi ha dato una casa confortevole comoda sana e calda d'inverno e fresca d'estate e anche perché no bella non dico larghissima ma quasi spaziosa perché non dico perché solo perché faccio video su youtube no non c'entra niente ma perché tutto il mio angolino anche per quando voglio fare le mie belle pellinghelle mi impoggiolo questo non è da poco c'è chi non se lo può permettere un poggiolo e questo mi dispiace parlo di persone povere proprio poverelle che senza tetto sì non so che non c'entra niente però ma anche quelli che non sono senza tetto quelli che non hanno un lavoro quelli che hanno perso il lavoro e io infatti ringrazio anche se sono un lavoro che sono che ho una percepiscono attenzione di invalidità non mi manca nulla non mi fa mancare nulla quindi sto a posto così quindi grazie 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 a che mi dà a che mi dà come sostenermi ma anche grazie all'amore che mia nonna mi dà anche se volte io sono monella ma questi sono altri che dettagli vabbè niente ragazzi questo era tutto 12 minuti di video io già vi dico che ecco perché mi ero tornata a casa mia perché perché dico tante volte casa nuova perché non è casa nuova sì è casa nuova perché mi sono trasferita che ero un'altra casa ma perché questa non era una casa tanto agibile era una casa sfatta era come un cantiere questa casa quando ero ero proprio un cantiere era sì un una casa che era da restiturare e adesso sto felice bene ragazze vi ricordo mettete like commentate condividete o perché no se non vi va di neanche non ve lo chiedo più neanche di condividere se va va se no amen cosa posso dire iscrivetevi attivate la campanella e ciao a presto